Tutte le strade riportano a Foggia, avrà certamente pensato questo Pasquale Padalino quando nel corso della settimana scorsa il suo cellulare ha ricevuto la chiamata che lo ha messo in contatto con il Foggia Calcio, torna per la quarta volta a Foggia Padalino due da calciatore e due da allenatore, dopo le giovanili con la maglia dei rossonieri infatti ha vissuto da protagonista l'epopea Zemanlandia prima e poi dopo i passaggi a Bologna e Lecce e ritorna nella Terranatia nel 94-95, ma la discesa del Foggia in Bia e la scalata di Pasquale Padalino verso le vette del calcio italiano erano due strade separate dal destino la Fiorentina, una gara in nazionale a Sarajevo, l'Inter anche senza giocare mai e il Como per una carriera che lo ha visto quasi 300 volte in campo tra Serie A e Serie B poi la vita d'allenatore, vice di Ventura, Verone e Pisa per farsi le ossa Lano Cerini in seconda divisione di Lega Pro come prima esperienza da solo al timone di una squadra di calcio poi il fallimento del Foggia e quella chiamata alla quale non ha saputo dire di no era il 7 agosto 2012, i rossoneri avevano perso non solo il fascino degli anni 90 ma anche la dignità dei palcoscenici secondari Padalino accettò la scommessa al pari del suo vice fidato Sergio Di Corcia che oggi insieme al resto dello staff tecnico torna con lui al lavoro insieme a Di Bari all'epoca direttore sportivo a fatica costruì una squadra degna di affrontare la Serie D e pian piano raggiunse un livello ottimo che portò i rossoneri fino alla finale playoff per San Matera il ripescaggio in seconda divisione, poi la Serie C unica e Padalino lasciò la panchina a Rossoneri il 29 maggio del 2014 poi Grosseto già in crisi di risultati, Matera presa in difficoltà e riportata a ridosso dei playoff e Lecce dove dall'inizio della stagione 2016-2017 aveva il compito di vincere quel campionato che invece il destino volle fosse vinto dal Foggia l'esonero ingiusto con la sua squadra seconda in classifica all'indomani proprio della gara contro i rossoneri ha pagato quella foggianità che oggi lo riporta lì sulla panchina della squadra della sua città alla quale non sa dire di no perché in fondo tutte le strade della sua carriera lo hanno sempre riportato a Foggia Grazie mille! Grazie a tutti.